Uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico esce con l'antologia dei suoi primi 25 anni di successi. Backup, la raccolta di tutte le sue canzoni. Come promuovere l'album sui social network. Nel mese di dicembre 2012 abbiamo creato la Jova Timeline, una piattaforma in cui raccogliere gli hashtag con i titoli delle canzoni di Giovanotti. E' invitato i fan a twittare i ricordi e le emozioni legati a quei titoli. La notizia è rimbalzata in tutta la blogosfera. Tweetstar ne hanno parlato. Lo stesso Giovanotti si è commosso. Jova Timeline è diventato Trend Topic su Twitter, raccogliendo nel solo primo giorno più di 2000 tweet. Ma cosa più importante di tutte. E Backup è stato in cima alle classifiche per tutto il mese di dicembre. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!